Sindaco, allerta meteo, parliamo un attimo dei fiumi, ci sono stati controlli, insomma i cittadini che abitano a margine dei fiumi possono stare tranquilli? Possono stare tranquilli perché la situazione, grazie al cielo, ha retto alle piogge che abbiamo avuto. Si aspettava un'allerta rossa drammatica ma qui influenza molto la ventosità, per cui sono situazioni che possono cambiare anche in maniera abbastanza repentina, però ripeto è andato tutto bene, per adesso non ci sono criticità in città. Incontri sia qui al Comune che in Prefettura? Incontro al Comune, già sabato avevamo aperto il COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, ieri Sua Eccellenza il Prefetto ha aperto il CCS, per cui abbiamo già fatto il secondo incontro, però stiamo monitorando ognuno per le proprie competenze la situazione. Quindi non ci sono grandi difficoltà al momento, insomma possiamo dire che al di là se poi la protezione civile dà l'allerta arancione o gialla? No, al momento non c'è nessuna difficoltà, presumibilmente ci sarà l'allerta arancione, per cui monitoreremo la situazione e terremo aperto il COC. Scuole chiuse? Guardi, la situazione cambia ora per ora, per cui vedremo e valuteremo il da farsi.